Faremo un raffronto in forma dialogica tra la concezione del lavoro all'indomani dell'impresa di fiume e la concezione del lavoro all'indomani della caduta del muro di Berlino per mostrare come tutto si è cambiato in peggio essenzialmente per quel che riguarda il mondo del lavoro. Quelli che un tempo erano diritti, che erano conquistati e che apparivano come tali da non poter essere più revocati si sono sciolti come neve al sole, si sono annichiliti come anelli di fumo nell'aria e quindi può essere utile guardare al passato anche per comprendere l'allontanamento in negativo che dal passato è stato compiuto.